Ciao a tutti, benvenuti in questo video. Dopo aver ricevuto tantissime richieste da parte di chi mi segue, ho deciso di creare un tutorial dove vi spiego step by step come utilizzare Procreate se fate illustrazione, quali sono le cose più importanti e, perché no, anche qualche piccolo trucchetto per utilizzarlo al meglio. Questo video quindi sarà una guida completa con tutto quello che c'è da sapere se utilizzate Procreate per fare illustrazione. Io mi chiamo Lisa e sono un'illustratrice digitale. Sul mio canale realizzo diversi tutorial sul mondo del disegno manga e sul mondo del disegno digitale. Se queste tematiche ti interessano, iscriviti al canale e, mi raccomando, attiva anche la campanellina qui sotto per ricevere le notifiche ogni volta che uscirà un nuovo video. Noi ci vediamo dopo la sigla, ciao! Partiamo dall'inizio, quindi cos'è Procreate? Procreate è un'applicazione disponibile solo per dispositivi della Apple, quindi potete utilizzarlo esclusivamente su iPad o in una versione Pocket su iPhone. Si tratta di un'applicazione per disegnare che è molto completa e personalmente mi piace tantissimo. In più, rispetto a tante altre applicazioni, è anche abbastanza economica. La versione integrale costa 10,99€, quella utilizzabile su iPad, mentre la versione Pocket utilizzabile su iPhone costa 5,49€. Quindi secondo me il rapporto qualità-prezzo è veramente ottimo, soprattutto perché offre un sacco di funzionalità che adesso vedremo meglio in questo video. Partiremo da una panoramica generale del programma e poi andremo man mano, sempre più, nello specifico, fino a vedere praticamente quasi tutti gli strumenti che servono a chi fa illustrazione digitale. Quindi questo video è rivolto principalmente a chi fa proprio l'illustrazione e la colorazione utilizzando il programma di Procreate. Quindi, senza aspettare oltre, partiamo e andiamo a vedere il programma. Apriamo quindi il nostro programma cliccando sull'icona. Questa è la schermata che ci troveremo davanti una volta aperto. Io ho cancellato alcuni lavori per liberare un pochino di memoria. Il pulsantino più qua in alto vi consente di creare un nuovo documento, quindi una nuova tela. Potete scegliere fra la dimensione del vostro schermo, quindi verrà creato un documento che sarà esattamente grande quanto il vostro schermo, oppure quadrato 4k a 4 e così via. Quindi a seconda del lavoro che vorrete realizzare potrete scegliere appunto le dimensioni e tutto quanto. Ovviamente una volta cliccata la vostra dimensione si apre il lavoro, però voi potete anche personalizzare comunque la dimensione del vostro documento. Per farlo basta cliccare questo pulsante e a questo punto potete selezionare la larghezza e l'altezza del vostro documento e dare l'ok per aprirlo. Per cancellare i vostri disegni è sufficiente cliccare su seleziona, dopodiché cliccate sul disegno che volete rimuovere. Io per esempio vado a cancellare questo che ho creato prima e lo voglio rimuovere e dopodiché vado a cliccare su elimina. Attenzione perché l'operazione di cancellazione è irreversibile, quindi una volta che voi avete cancellato il lavoro non potrete più recuperarlo, quindi fate molta attenzione. Cliccando su foto potete aprire direttamente un'immagine dalla vostra galleria. Cliccando su importa potrete andare a importare alcune impostazioni, magari dei documenti che avete salvato sul vostro dispositivo e appunto seleziona come abbiamo visto prima per selezionare i vostri disegni. Per aprire un disegno è molto semplice, basta cliccare sul disegno stesso e appunto si aprirà. Per rinominare un vostro lavoro basterà cliccare sul nome del disegno, dopodiché potrete andare a rinominarlo. Creiamo quindi un nuovo documento bianco con le stesse dimensioni dello schermo, quindi lui mi creerà un documento che sarà grande esattamente quanto lo schermo. Come vedete è una schermata molto semplice e molto intuitiva, mi piace molto perché è molto pratica e vi permette di sfruttare tutto lo schermo del vostro iPad per disegnare. Come prima cosa andiamo a vedere i pennelli. Cliccando su questa icona si aprirà quindi la palette dei nostri pennelli e Procreate di default ne fornisce già tantissimi. Considerate che da qui, praticamente da bozzetto in giù, sono tutti i pennelli già presenti all'interno dell'applicazione, quindi potete andare a selezionare il pennello che volete e poi lo potete anche personalizzare. Per personalizzare un pennello è sufficiente selezionarlo una volta con la vostra penna, dopodiché cliccandoci una seconda volta si aprirà appunto la schermata con tutte le impostazioni dei pennelli. Come vedete le impostazioni sono tante e quindi questo vi fa già capire quanto sia personalizzabile proprio a livello di prestazioni. Qui potete vedere un'anteprima di come verrà il vostro pennello e se per esempio attuate qualche modifica e volete vedere com'è il pennello dopo la modifica a portata potete appunto utilizzare questa schermata per vedere cosa succede. Se dopo le modifiche non siete soddisfatti del nuovo risultato basterà cliccare su annulla e tornerete alle impostazioni di prima, invece cliccando su fine salverete anche le modifiche a portate. Vediamo innanzitutto come ridimensionare il pennello, per esempio abbiamo un pennello di questa dimensione per ingrandire o rimpicciolire il pennello è sufficiente utilizzare questo pannello. Come vedete spingendolo verso l'alto ingrandiamo la forma del nostro pennello mentre spostandolo verso il basso lo andiamo a rimpicciolire. Questa parte invece si riferisce all'opacità del pennello quindi se è tutto posizionato completamente in alto l'opacità sarà al 100% quindi lo vedrete completamente nella sua interezza. Se scendiamo per esempio comincerà calare l'opacità e quindi per poter avere il colore pieno dovremo cliccare più volte, invece se scendiamo completamente il pennello smette di disegnare quindi attenzione a questa cosa perché se tenete proprio il pennello qui allo zero non funziona niente. Cioè in realtà sta dipingendo però voi non vedete il tratto perché è allo 0%. Tra le impostazioni dei pennelli quella che ritengo essere una delle più importanti è sicuramente lo streamline o stabilizzatore in altri programmi. Che cosa fa sostanzialmente questo streamline? In pratica va a modulare o accompagnare più o meno il vostro tratto. Vi faccio un esempio se noi mettiamo lo streamline a zero quindi mi viene nessuno perché l'ho messo proprio a zero, il nostro tratto sarà esattamente uguale a quello che faremo noi quindi al movimento della nostra mano e come vedete mi segue perfettamente. Se invece io vado ad aumentare lo streamline quasi al massimo, facciamo per esempio un 91%, faccio fine, come vedete c'è un ritardo durante il disegno e non solo. La mia curva segue un andamento quasi oscillatorio diciamo durante proprio la fase del disegno. Questo è estremamente utile soprattutto per il disegno manga anche quando si disegnano i capelli, i vestiti o dettagli magari linee lunghe e così via perché vi permette di creare una linea molto più precisa. Se desiderate avere maggiori informazioni riguardo lo streamline ho creato un video apposta che potete trovare qui in sovra impressione. Vi lascio comunque anche il link sotto a questo video. Quali sono i pennelli che uso maggiormente per disegnare? Sostanzialmente non sono molti, come vedete questi sono i pennelli che utilizzo io, mi sono creata qui la galleria appunto Creo Lisa, quindi questi sono i pennelli che sto utilizzando e io sono molto per il pochi ma buoni, quindi mi piace avere pochi pennelli senza troppe personalizzazioni, senza troppe texture strane e tranne magari per alcuni dettagli come per esempio i capelli, per esempio questo pennello, però per il resto mi piace averli semplici perché per il disegno manga non è necessario avere pennelli molto particolari, è sufficiente avere proprio una base. Sicuramente utilizzo moltissimo questo pennello per realizzare i bozzetti dei miei personaggi, quindi per crearmi proprio la base, quindi fare proprio lo schizzo iniziale, è molto comodo perché simula un pochettino quello che è la matita e quindi mi piace, mi piace molto. Poi utilizzo il pennello della line art per creare appunto la line art dei miei personaggi che è molto precisa, quindi l'ho impostato in modo che sia proprio molto preciso con le linee e successivamente per colorare utilizzo principalmente il watercolor che mi permette di mischiare i colori, creare sfumature, fare diversi accostamenti, è molto molto versatile e poi soprattutto utilizzo l'aerografo. L'aerografo è un pennello molto versatile e molto particolare che può essere utilizzato in tantissimi contesti, quindi mi piace, mi piace moltissimo. Se vi interessa approfondire la tematica dei pennelli, qui sotto vi lascio il link con i pennelli personalizzati che ho creato io, se volete provarli, se li volete utilizzare. Questo cerchio qui in alto a destra determina il colore. Cliccandoci sopra una volta si aprirà appunto la nostra paletta dei colori e in questo modo possiamo andare a selezionare il nostro colore corrispondente. Qui abbiamo la parte dedicata alla luminosità, quindi luminosità al 100% mentre qui luminosità allo 0%. Qui abbiamo l'area della saturazione, quindi qui saturazione allo 0%, qui saturazione al 100% e poi abbiamo tutta la gamma dei colori, quindi muovendo questa barra possiamo modificare il nostro colore e andando a muovere questa barra possiamo lavorare con più precisione per quanto riguarda il discorso della saturazione e della luminosità. Qui sotto invece avete una cronologia dei colori che utilizzate, quindi se per esempio io vado ad utilizzare questo azzurrino vedrete che qui prima del rosso comparirà l'azzurro e tutti gli altri verranno spostati di uno verso destra. Vi faccio subito vedere una prova, utilizzo l'azzurro ed ecco che me l'ha messo qui e ha scalato di uno tutti i miei colori. Se voglio eliminare la cronologia è sufficiente cliccare su cancella. Qui abbiamo una progressione quindi anche magari consigli sul tipo di colore che stiamo utilizzando e lui ci consiglia dei colori adiacenti o complementari che potremmo provare ad utilizzare, mentre la schermata qui sotto ci consente di modificare il tipo di tavolozza visibile. Io personalmente vi consiglio di utilizzare o questa che è molto simile ad altri programmi come per esempio Photoshop, quindi se passate da Photoshop a Procreate magari vi troverete più a vostro agio con questo tipo di palette. Invece se state utilizzando altri programmi come per esempio Clip Studio Paint, Paint 2G6 o Medibang probabilmente potrebbe venirvi più comodo utilizzare questa perché di default viene impostato questo tipo di palette. Ovviamente anche quei programmi hanno questo tipo di palette e però decidete voi quale volete utilizzare. Io all'inizio utilizzavo questa come palette di colori però dopo un po' di tempo ho cambiato e sono tornata alla classica palette che utilizzavo quando anni fa disegnavo con Photoshop e ho fatto questa scelta perché da questa palette di colori io non riuscivo quasi mai a impostare il colore bianco o un colore molto molto saturato. Mi veniva un pochino complicato diciamo con questa palette, di conseguenza l'ho cambiata. Invece da qui per selezionare il bianco mi basta andare in estrema sinistra e ho già fatto e mi basta rimanere completamente in alto per avere una saturazione al 100%, quindi la trovo molto più pratica. Se dovessi consigliarla io consiglierei questo tipo di palette. Il pennello che andrete ad utilizzare corrisponderà al colore corrispondente quindi se per esempio andate a selezionare un rosso vedete che il cerchio si colora del colore corrispondente e il pennello quindi agirà di conseguenza. Se vado a cambiare e metto il blu ecco che il mio cerchio è appunto di colore blu e il pennello ovviamente sarà dello stesso identico colore. Una cosa comoda di Procreate è che potete andare a fare dei riempimenti molto veloci. Vi faccio vedere un esempio, io ho creato questo cerchio, se voglio riempirlo con il colore rosso per esempio, mi basta andare a selezionare poi il colore, vado sopra con la mia penna, clicco e trascino il colore qui sopra. È un'opzione veramente veramente comoda e in pochissimo tempo, proprio un secondo, io ho riempito la mia area. Come potete vedere non ci sono bordi bianchi, cioè me l'ha riempita proprio perfettamente anche qua. Ora passiamo alla palette dei livelli, quindi da qui avete la palette dei vostri livelli, quindi quest'icona vi fa aprire proprio la palette e i livelli sono importantissimi, sono fondamentali per il disegno digitale e sono la chiave per creare proprio i disegni digitali. È molto importante conoscerli, sapere come utilizzarli al meglio e se vuoi approfondire questo aspetto e ti interessa, qui sotto ti lascio il link per il mio mini corso gratuito sblocca digitale in 5 step dove ti fornisco una panoramica più completa dei livelli e successivamente se desideri approfondire troverai maggiori informazioni. Per creare un nuovo livello con Procreate è sufficiente cliccare sull'icona del più, come vedete questo era livello 1 e il livello nuovo è stato rinominato in livello 2, livello 3 e così via. Quindi i livelli hanno una numerazione progressiva. I livelli possono essere anche rinominati, basta cliccare su livello 1, poi andare su rinomina e potete rinominarlo come volete. Per esempio scrivo Lisa, faccio invio e il mio livello è stato rinominato. Ci sono poi alcuni comandi che non risultano ampiamente intuitivi, soprattutto all'inizio, ma li vediamo subito. Allora, per poter selezionare un livello basta cliccarci sopra, viene evidenziato di azzurro e l'abbiamo selezionato. Per selezionare invece più livelli dovete swappare verso destra, quindi fare uno swipe in questo modo, ed ecco che ho selezionato tutti e tre i livelli. Se invece volete cancellare un livello dovete fare swipe verso sinistra, in questo modo potete cancellarlo, oppure duplicarlo, oppure bloccarlo. Quest'iconcine invece vi permette di nascondere o mostrare un livello. Per esempio, se io vado a fare un piccolo cerchio, nascondo il livello, il cerchio scompare. Ma non ho cancellato il livello, il livello c'è ancora, perché se riclicco, eccolo qua. La cosa bella dei livelli è che vi permettono di spostare a vostro piacimento i diversi elementi. Io per esempio vado a creare un altro cerchio nel livello 3 e lo faccio qui. Ecco che abbiamo il cerchio giallo che sta sopra il cerchio rosso, ma se io vado a spostare il livello 3 qua sotto, avviene il contrario. Quindi i livelli si possono spostare. Per farlo ho cliccato sul livello corrispondente e poi l'ho trascinato appunto sopra oppure sotto. Se avessi più livelli, potrei fare comunque la stessa identica cosa. Quindi posso andare a spostarli a mio piacimento. Tutti i livelli si possono spostare. Se voi andate a bloccare un livello, apparirà un piccolo lucchetto. Con questa impostazione voi non potrete più lavorare sopra questo livello. Quindi se per esempio vado a disegnare non succede niente. Mi dice per esempio la selezione attuale contiene elementi bloccati, appunto il livello. Vuoi aprire i livelli? Posso scegliere se aprire i livelli, sbloccarlo o annullare l'operazione. Se io vado a sbloccare il livello, posso ricominciare a disegnarci sopra. Se invece non faccio nessuna operazione, rimane bloccato e io non posso andare ad agire su questo livello. Ovviamente essendo bloccato non posso neanche cancellarlo. Quindi se vi trovate nella condizione in cui non riuscite più a cancellarlo o a disegnarci sopra, controllate che non sia presente il lucchetto. Ci sono poi dei comandi particolari per i livelli che sono appunto questi strumenti qui. Si aprono cliccando sulla vostra anteprima. Quindi se io clicco sul livello e poi sull'anteprima mi si apre questa palette. Posso rinominarlo, selezionarlo, copiarlo, riempirlo eccetera eccetera. Le code che ritengo più importanti, soprattutto per il disegno manga, sono blocca alfa e la maschera di ritaglio. Anche maschera è abbastanza importante come strumento ma non lo utilizzo tantissimo per il disegno e l'illustrazione digitale. Vediamo come funzionano queste impostazioni. Creo un cerchio. Dopodiché vado a selezionare il mio livello e clicco su blocca alfa. Blocca alfa praticamente va a bloccare tutti i pixel trasparenti. Perciò se io poi andrò a disegnare sopra a questo livello non potrò disegnare oltre l'area già disegnata. Decisamente molto comodo. Oppure la maschera di ritaglio invece fa una cosa che apparentemente sembra uguale. Quindi creo un nuovo livello, applico la maschera di ritaglio, appare questa piccola recetta, vado a colorare e apparentemente stiamo facendo la stessa cosa del blocca alfa. Però in realtà abbiamo due livelli diversi, quindi possiamo agire in modi differenti. In più la maschera di ritaglio si può ricreare più e più volte. Quindi se per esempio vado a creare un'altra maschera di ritaglio posso agire sul disegno e così via. Invece con l'impostazione di prima possiamo crearne uno solo. Vediamo un esempio pratico della maschera di ritaglio che io uso spessissimo per i miei disegni. Per esempio per realizzare questo disegno io ho utilizzato molto la maschera di ritaglio. Quindi se vado a vedere dalla mia palette dei livelli e cancello per esempio questo livello che era proprio una maschera di ritaglio, guardate cosa succede. Questi qui erano due maschere di ritaglio. Come vedete con due semplici livelli sono andata a fare delle modifiche sostanziali al mio disegno. Io le utilizzo tantissimo e mi trovo veramente benissimo. Lo preferisco di gran lunga ad altri strumenti come per esempio maschera. Io maschera non lo uso quasi mai. Preferisco utilizzare proprio la maschera di ritaglio. Un'impostazione di cui vi ho parlato all'inizio di questo video era dedicata proprio al numero di livelli che si possono creare in un documento. Quindi a seconda della dimensione e della risoluzione del disegno cambia la quantità massima di livelli consentita. Quindi come si fa a sapere quanti sono questi livelli? Quindi quanti livelli è consentito realizzare? Basta andare sull'icona dell'ingranaggio, dopodiché tela, informazioni tela e all'interno della schermata dei livelli potete vedere il numero massimo di livelli consentito. Vediamo ora alcuni comandi rapidi che si possono utilizzare all'interno di Procreate. In particolare vi farò vedere i comandi rapidi che utilizzo io e con i quali mi trovo meglio. Il primo è sicuramente il doppio tocco che vi permette di andare avanti o tornare indietro. Se per esempio andiamo a fare tre linee con il doppio tocco, per ogni tocco andiamo indietro di una operazione, quindi torniamo indietro. Con tre dita invece torniamo avanti, quindi due dita torniamo indietro e tre dita ritorniamo avanti di un'operazione. Un altro tocco che utilizzo spesso sono le quattro dita. Quindi con quattro dita si apre questa schermata che vi permette di riflettere il vostro foglio, quindi orizzontalmente, verticalmente, di cancellare un livello, copiarlo o unirlo e anche di creare un nuovo livello. Io utilizzo questa opzione principalmente per riflettere orizzontalmente il mio disegno, per vedere appunto se ci sono dei difetti. Un altro strumento rapido è lo strumento del tocco, quindi toccando e tenendo premuto si attiva lo strumento contagocce, quindi molto molto utile. Se volete accelerare magari il processo di disegno vi basterà proprio cliccare, selezionate il colore e voilà potrete poi disegnare. Poi l'ultimo comando rapido che uso più spesso sono le tre dita swappate verso il basso che apre questa schermata che vi consente di copiare, copiare tutto il livello, duplicarlo eccetera eccetera. Un altro comando rapido, ma più che comando rapido è un controllo gestuale, sono le due dita, quindi aprendo e chiudendo le dita potete appunto ingrandire, ridurre o ruotare il vostro foglio di lavoro, decisamente molto 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 comodo. Veniamo ora allo strumento selezione, cliccando qui sul mouse appunto il nostro disegno verrà circondato da una selezione e appunto premendo e trascinandolo possiamo spostare il nostro disegno. Questi simboli invece, questi pallini ci permettono di ridimensionare il nostro lavoro, mentre questo piccolo pallino verde ci permette di ruotarlo. Poi per esempio qui sotto abbiamo diverse impostazioni, per esempio con forma libera possiamo andare a ingrandire, ridurre, quindi ridimensionarlo, diciamo modificandone anche la sua struttura. Poi c'è Distorchic, ci permette proprio di andare a distorcere completamente la nostra figura, quindi andando a distorcerla ecco letteralmente. E poi c'è lo strumento Altera che va a creare una specie di griglia con la quale voi potete alterare proprio al 100% il vostro lavoro. E' fatto veramente bene come programma perché mi aiuta tantissimo quando voglio andare a modificare determinate forme e a perfezionarle e è molto molto preciso. Quindi vi consiglio assolutamente di utilizzarlo, magari all'inizio potrà essere un pochino complicato capire come utilizzare lo strumento Altera, però fidatevi ne vale davvero la pena. Poi adesso lavoriamo su questo simbolo AS. A cosa serve questo simbolo? Serve per fare delle selezioni. Quindi andando per esempio a cliccare una volta sul nostro lavoro diciamo facciamo più o meno quello che farebbe la bacchetta magica, quindi andiamo a selezionare il nostro lavoro. E a questo punto poi possiamo copiare e incollarlo, possiamo cancellarlo, poi appunto possiamo andare a ruotare e ridimensionare il lavoro che abbiamo appena copiato. Oppure possiamo utilizzare mano libera per selezionare proprio liberamente la forma della nostra selezione, quindi creiamo noi la nostra selezione e poi spostiamo l'elemento di conseguenza. Una volta che voi cliccherete di nuovo su questo simbolo la selezione sparirà e quindi a questo punto se vorrete creare una nuova selezione, logicamente uno che cosa fa? Clicca di nuovo qui, va a creare una nuova selezione, la sposta, modifica, ridimensiona e così via. Ma se io invece avessi cliccato per sbaglio questa icona e volessi tornare indietro alla mia ultima selezione, come faccio? Beh, per farlo è molto semplice, basta cliccare e tenere premuto lo strumento della selezione e lui vi andrà a riprendere l'ultima selezione che avevate fatto, che in questo caso era in questo punto. Poi c'è anche la selezione rettangolare che era presente anche in Photoshop e anche in altri programmi, quindi potete fare proprio una selezione di tipo rettangolare. E poi ci sono anche altri tipi di selezione che sperimentate perché ne vale davvero la pena, sono molto molto comode da utilizzare. Poi abbiamo questa piccola bacchetta magica che corrisponde alle regolazioni. In pratica se voi avete per esempio creato questo livello e volete modificarlo, possiamo andare su tonalità, saturazione e luminosità e possiamo andare a cambiare il suo colore. Possiamo modificarne la saturazione oppure rendolo più luminoso, oppure possiamo andare a fare il bilanciamento del colore, lavorare con le curve, con il gradiente e così via. Possiamo anche controllare per esempio la sfocatura, quindi andare a sfocarlo maggiormente oppure meno. Possiamo anche creare una sfocatura in movimento e altro ancora. Diciamo che questa bacchetta magica vi permette di andare a alterare i vostri livelli. Poi ci sono anche queste impostazioni che sono molto molto curiose e interessanti, vi consiglio di sperimentare. E probabilmente, anzi sicuramente farò un tutorial sulla nitidezza perché ne vale la pena, vale la pena proprio capire a cosa serve e come sfruttarlo al meglio per i disegni digitali, in particolare il disegno manga. Poi abbiamo questa piccola iconcina a forma di ingranaggio che corrisponde proprio alle azioni che possiamo intraprendere. Quindi da qui possiamo per esempio andare a inserire un file, aggiungere una foto, scattare una foto con il nostro dispositivo da inserire nel disegno e così via. Tramite lo strumento tela, quindi tramite questa impostazione, possiamo invece ritagliare e ridimensionare il nostro lavoro per esempio. Quindi se ci rendiamo conto che vogliamo rimpicciolire il nostro lavoro, basterà utilizzare questo strumento e avremo fatto in due secondi. Oppure se vorremmo ingrandirlo, potremmo farlo. Non c'è nessun problema, quindi si può sia ingrandire che rimpicciolire. Attenzione perché effettuando questa operazione c'è sempre il discorso della quantità massima di livelli utilizzabile. Quindi poi andate sempre a controllare tramite informazioni tela e livelli il numero massimo di livelli che potete utilizzare. Sempre tornando sulla tela, possiamo poi rifletterla orizzontalmente o verticalmente. Abbiamo visto prima che c'era anche il comando rapido che semplifica di lunga questa cosa. Poi condividi, che vi permette di condividere la vostra immagine, quindi di salvarla per esempio in formato jpeg o png. Oppure di addirittura di salvare ogni singolo livello separato, cosa molto molto comoda. Video che vi permette di vedere sia la vostra registrazione in timelapse, sia scegliere se fare o meno la registrazione. Il timelapse è comodissimo perché come potete vedere mi fa vedere tutto quello che ho fatto dall'inizio del disegno fino ad oggi. Quindi adesso tutti i miei scarabocchi li possiamo vedere qui. Ovviamente questa registrazione viene salvata all'interno del dispositivo e può essere esportata. Quindi cliccando su esporta video timelapse possiamo scegliere e esportare quindi il nostro video. Lunghezza intera esporterà il video nella sua interezza, quindi dall'inizio fino alla fine. 30 secondi invece avremo solo 30 secondi di video. Che attenzione, non è che va a spezzare il processo di disegno, ma il video durerà 30 secondi commisurato alla quantità. Quindi se per esempio fate un disegno che come lunghezza intera vi risulterà un timelapse di 5 minuti per esempio, 30 secondi diventerà un video di 30 secondi e quei 5 minuti verranno implementati in quei 30 secondi. Quindi sarà un video super mega velocissimo, perciò vi consiglio di utilizzare i 30 secondi solo se effettivamente, visivamente, è bello da vedere. Perché altrimenti vi viene proprio una cosa super super mega velocissima e non si capisce niente di quello che sta accadendo. Poi abbiamo le preferenze che vi permettono appunto di impostare le preferenze del programma, per esempio interfaccia luce o interfaccia standard, quindi ombra, che trovo che sia maggiormente riposante per gli occhi, vi consiglio di utilizzare questa. Interfaccia a destra, mi permette di spostare a destra o a sinistra lo strumento per lavorare con la dimensione e l'opacità del vostro pennello. E poi ci sono anche altre impostazioni. I primi tempi, quando ho iniziato a disegnare con Procreate, mi sono trovata particolarmente in difficoltà con la penna, perché mi capitava spesso di disegnare e durante proprio il tratto il pennello si trasformava in gomma e viceversa, e non riuscivo a capire perché. Quindi passavo dalla gomma al pennello, dal pennello alla gomma... Sinceramente stavo impazzendo perché pensavo che la penna fosse difettosa o che non avevo capito bene come utilizzare il programma, insomma stavo veramente impazzendo. Poi però andando nelle impostazioni ho capito cosa stavo sbagliando, quindi ho capito diciamo qual era il problema, cosa andava a trasformare il pennello in gomma e viceversa. Perciò se è capitato anche a voi oppure vi sta capitando e non sapete come fare, adesso vi spiego come sistemarlo. Quindi come facciamo per disattivare questa impostazione? Andiamo all'interno delle impostazioni del nostro dispositivo e clicchiamo Apple Pencil. Una volta che ci troveremo in questa schermata, questa sarà la parte che ci interesserà. Probabilmente se ti trovi nella condizione che ti ho descritto prima avrai il segno della spunta su alterna tra lo strumento in uso e la gomma. Quello che devi fare è cliccare non attivo. In questo modo anche se farai doppio tocco non passerà la gomma e viceversa. Ed ora ecco alcuni consigli su come utilizzarlo al meglio. Un primo consiglio che mi sento di darvi sicuramente è quello di andare all'interno delle preferenze e spostare l'interfaccia di regolazione del vostro pennello a destra o a sinistra, secondo appunto se siete destri o mancini. Se siete destri, in questo caso tenete pure l'interfaccia sulla sinistra, viceversa, spostatela a destra. Poi vi consiglio di tenere attivo anche il cursore del pennello, perché in questo modo quando andrete a disegnare o anche prima di disegnare potrete vedere la grandezza del pennello che state utilizzando. Se invece disattivate questa opzione non potrete vedere la dimensione del pennello. Io la trovo molto comoda invece una volta attivata soprattutto quando vado proprio a fare i riempimenti dei miei disegni. Un altro piccolo trucchetto è la curva della pressione che di default è impostata in questo modo. Io vi consiglio di regolarla in questo modo, perché andrete a modificare il tratto in una maniera che sarà molto più comoda per il disegno manga. Vi faccio vedere la differenza. Se noi teniamo la linea standard e andiamo a fare per esempio la line art modulando la pressione, ecco il risultato che ne consegue. Ora vado a modificare la mia curva della pressione come vi ho mostrato prima. Ed ecco la differenza. Come vedete questo vi permette di creare addirittura un tratto molto più sottile e di modularlo al meglio anche se il vostro pennello è un pochino più grande. Cosa comodissima per il disegno manga, soprattutto per la creazione di contrasti fra luci e ombre. Ed eccoci qua alla fine del video, quindi la guida termina qui. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile e lasciatemi pure un commentino qui sotto al video. Come sempre io spero che questo video vi sia stato super utile e anche interessante e qui in sovraimpressione vi lascio altri due video che potrebbero essere interessanti per voi. E noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!